Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, oggi continuiamo la Carly Legacy continuiamo, questa volta siamo tornati un attimo dalla famiglia di Lily quella iniziale diciamo, dove abitano a Windenburg che abita a Windenburg e abbiamo qui Nora che sta facendo una lezione, un allenamento di yoga ma tuttino anche per lei perché appunto sono le 8.40 e poi deciderà di mettersi al lavoro per la sua aspirazione, ah sì, dobbiamo frequentare la spa e credo che prossimamente ci andremo intanto, dopo che appunto finisce la sua sessione guardate l'ho fatto accendere anche l'incenso te ne vai un attimo in bagno ti cambi, ti cambi di abito fa freschetto qui a Windenburg nonostante comunque siamo negli ultimi giorni di primavera e poi ti metti qui al computer perché le ho fatto prendere un nuovo ingaggio e vorrei cercare di terminarlo quindi dobbiamo studiare le immagini di riferimento le ho fatto prendere questo qua ritratto di parente deceduto cercasi talentuoso artista che dipinga il ritratto di una persona cara recentemente scomparsa di tanto in tanto si ripresenta sotto forma di fantasma ma preferirei ricordarla come era da viva pagherò lautamente per un lavoro di alto profilo bene, mentre Leo è al lavoro Erika sta mangiando in piedi fuori così siediti ti prego mentre Lori stava mettendo un po' a posto stava prendendosi cura del suo giardino, della sua serra solo che non aveva più niente da fare ormai con lui ragazzi ho praticamente terminato il tutto vieni qua, stringi un legame e stringi un legame e qua aggiungi pure del becchime mentre Luca è in giro discuti della paura della morte ancora mamma mia è in giro con Coco a fare una passeggiata con Erika ragazzi adesso vorrei, ah vabbè dai vieni qui a chiacchierare con tua moglie dopo allora tu Erika, guarda, fammi pure ok, si è già ripurrita qui la pozza fantastico hai visione di socializzare ma non ti preoccupare con lei volevo fare un mercatino perché da un po' effettivamente che non lo facciamo tra l'altro abbiamo tutte queste bellissime cose da regalare, guardate, tutine varie allora, uh, avviando la posta assolutamente paghiamo le bollette e poi basta, penso sì, esatto ci mettiamo qui come il nostro solito ah, ma forse voi non lo sapevate vabbè, praticamente lei nella mia partita principale faceva questi mercatini di dolci perché appunto lei, come guardate è un mercante di delizie pasticcini quindi visualizziamo pure l'inventario e vediamo un po' nel frigo cosa c'è innanzitutto ci mettiamo anche questa ananas così questo semi di ananas proprio a caso però ci sta che ogni tanto ci metta dei semi quindi apri vediamo un po' cosa possiamo vendere perché le ho fatto fare ecco, tipo delle torte sì, abbiamo delle torte in più ah, non posso ah, ma no, aspetta, aspetta facciamo così aspetta mi sono un attimo persa ok, possiamo fare così la torta non può essere venduta perché? questo mi è strano vabbè comunque le ho fatto fare una torta di mele e la torta anello di lava quasi quasi magari ci mettiamo anche un po' di banane quello che non riusciamo a vendere poi ce lo riprendiamo e anche la torta invernale che ormai l'inverno è inoltrata anche se è mezza mangiucchiata ma va bene va benissimo così vendiamo anche un po' di uva e il miele che male non fa non abbiamo bisogno di soldi però mi fa cioè mi piace fare questi mercatini ok, riempi il tavolo occupati del tavolo e iniziamo pure la vendita perfetto benissimo benissimo così vediamo magari anche di socializzare ah, intanto vi faccio vedere che con Leo poi quando tornerà a casa ho comprato con lui questo aggeggio che è il boh, tipo il coso da combattimento vediamo innanzitutto se riesce a prendermi una promozione magari adesso lavorami un po' sodo perché dobbiamo avanzare siamo ancora in reclute figurati e appunto con questo aggeggio qui sono riuscita a fargli fare il 25% di allenamento ed è un aggeggio importante diciamo per la sua carriera perché appunto ti può permettere di esercitarti a comandare a bacchetta qualcuno no? cioè a parlare come si deve esercitarsi nel combattimento oppure può esercitarsi con qualcun altro quindi dopo comunque quando torno a casa io lo faccio fare così lo vediamo insieme mentre Nora ok ha terminato aspetta che adesso dobbiamo dipingere un ritratto sull'album per schizzi Nora guarda mettiti pure qui siediti qui e fai un cosa devo fare? aspetta ah freelance ritratto ok dipingi un ritratto sull'album per schizzi ok va bene e poi quando è terminato facciamo approvare il ritratto ok Lori cosa stai facendo? sei venuto qui a socializzare tu? ti stai occupando del tavolo? oh cosa è successo? le prime impressioni sono forti accidenti riempi pure il tavolo che vediamo non mi ricordo neanche se ho lasciato il ricarico del 300 sì infatti però vabbè facciamo che c'è una svendita dai ci sono i saldi i saldi di fine primavera inizio estate quindi vai con i saldi ok mentre Luca ragazzi è ancora tra di noi e speriamo ci rimanga perché è il simuficiente per quanto riguarda le nozze di Lily e Jasper poi dopo ho anche delle novità per quanto riguarda il matrimonio dopo comunque andiamo dall'unità familiare di Lily perché appunto ci sono queste novità però prima volevo fare questo allora vediamo se riusciamo a vendere queste torte smangiocchiate però sarebbe cioè importante dai così almeno ce ne disfiamo perché altrimenti vanno sempre a male e non mi piace oh cosa vuoi fare con Erika? vediamo sia amichevole va bene te lo lascio anche fare amichevole condividi consigli per se mi socievoli dai Luca mi sa che ha bisogno di non puoi tornare a casa? perché non puoi andare a casa? vabbè avrà dei problemi con la vescica ma pazienza oh è arrivata anche Nora ha terminato il ritratto? ha terminato il ritratto quindi a questo punto fai approvare il ritratto oddio questo lo devo vedere che schifo ma cos'è sta roba? ma questo non è un ritratto di una persona anziana che è appena deceduta cioè una persona comunque deceduta vabbè se ce l'approvano ragazzi eh no infatti il materiale deve essere modificato prima di essere sottoposto di nuovo alla nostra attenzione i dipinti si possono modificare con l'album per schizzi libri si possono anche i libri si possono modificare niente fai approvare il ritratto non ci piace dove mi hai mollato l'album per schizzi madonna questi sim che mi lasciano in giro le robe qua vieni a vedere freelance modifica il materiale rifiutato vai e datti una mossa e fallo bene per favore e quindi ragazzi adesso col fatto che Erika è qui a casa appena finisce il mercatino è stata incaricata di creare la torta per il il matrimonio di Lili e Jasper ovviamente adesso comunque si è messa anche a piovere quindi per favore dai Lori hai voluto parlare con Erika si bene ora basta guarda tornatene dentro vieni qui da Gracie vieni qui e fai gioca dai giocate insieme poi anche che problema c'è e impara un po' a conoscere mi sa che se l'ha fatta addosso quasi ci manca poco non capisco perché non può tornare a casa Luca ma va benissimo così dai che ormai manca poco si è messo anche a piovere ok le torte ragazzi non hanno avuto successo forse ho messo un po' troppa roba sul tavolo vabbè fa lo stesso facciamo che liberiamo il tavolo ok basta terminiamo la vendita e ora torniamo in cucina quindi vieni qui che dobbiamo cucinare intanto rimetto questa roba in frigo purtroppo niente non le abbiamo vendute peccato perché le avevo fatte fare proprio opposta abbiamo venduto solamente un paio di miele qualche platano l'ananas neanche e un credo un qualcosa di uva però vabbè pazienza non fa niente non era quello il mio intento allora cambiamoci di abito con i nostri abiti da cucina e vediamo un po' come creare questa torta nuziale perché appunto è arrivato il momento quindi prepara la torta nuziale oh ma che belle dunque noi quali possiamo fare una torta cuscino mi sembra un po' troppo regale ma mi piace questa qua rotonda con un motivo quadrato no ragazzi con i fiori dobbiamo farla torta nuziale con i fiori floreale dunque due strati rotonda bianca due strati con rose rosa e ci sta perché a Lily piace il rosa e il giallo le rose blu le rose verdi rose gialle rose marroni rose d'oro ah bianco avorio no facciamo questa la prima sì sì questa questa qua perché tra le altre allora questa con i cupcake make me quelle altre che sono qua con il motivo quadrato è un po' tipo futuristica se no da spiaggia è molto colorata no ragazzi quella lì floreale bianca la prima con le rose rosa vai Erika voglio proprio vederti a fare a fare questa questa torta Luca torna torna a casa vieni 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 c'è da andare in bagno sperando ci riesca ok Lorenzo si è messo a fare un po' di attività fisica lavando i panni ok benissimo intanto Leo è stato promosso wow oh ti hanno cambiato la maglia è stato promosso a soldato di quarta classe ah ora bisogna marciare facciamolo dobbiamo se non erro esatto schiacciare cliccare sul nostro sim allora vediamo un po' Cocco è affamata va bene ok però io voglio stare su Erika ok pittura livello 2 benissimo abbiamo ottenuto l'espositore di medaglie finalmente e il cuore dell'audacia benissimo quando abbiamo finito la torta ragazzi vediamo questo espositore lo voglio troppo vedere ok Leo sta marciando attorno benissimo benissimo mentre Nora vediamo si attere si vabbè in piedi deve farlo in piedi vediamo se riesce a ultimare lo schizzo e poi vediamo con Erika che bella questa torta decorola bene però per favore perché ci manca tutta la glassa qui vediamo che questa sarebbe la sorpresa per Lily sarebbe la sorpresa per Lily quindi brava brava vai di sac a posce via ok lasciamola pure lavorare lì allora vediamo se questa volta è giusto a me sembra uguale ragazzi ma non vedo differenze riproviamoci ma guardate chi c'è dai questo un po' era da aspettarselo forse se lo sentiva che era nell'aria invita pure a entrare invita a entrare intanto che wow no vabbè raga ma adoro dove è andata Erika cosa fai in bagno lascia perdere il bagno vieni qua e allora accogli tua figlia dai accogli tua figlia con questa meraviglia dai da mangiare no però c'era seleziona le nuove decorazioni della torta selezioniamo anche queste già che ci siamo allora decorazioni rosa pallido allora aspetta qua possiamo no raga ma la pianta mucca floreale ma che bello allora io ce le metterei gialle però c'è la scritta in bronzo volevo fare qualcosa tra giallo e rosa vediamo queste oddio ah me le mette su subito forse ci sono un po' troppe rose sì metti le decorazioni nell'inventario non soddisfa ancora e adesso ci mettiamo un'altra volta a a modificarle perché non va mica bene freelance modifica il ritratto dai Erika che poi c'è la sorpresa per tua figlia vieni dove sei no rimuovile perché queste non ci piacciono allora seleziona nuove decorazioni cosa possiamo metterci no ma la pianta è bellissima però non ci azzecca niente cioè ci sarebbe stata molto bene se avessimo già avuto la pianta mucca purtroppo non ce l'abbiamo quindi no e rose vediamo tra le rose rose gialle non so quanto cozzano 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 parecchio togli le decorazioni noi stiamo comprando decorazioni così ma forse non ci costano niente no allora selezioniamo le decorazioni ragazzi ci mettiamo i due tipi quindi le due sagome i mini sim sì questi 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 vanno benissimo decorazioni non è che siano bellissimi mamma mia raga che fatica allora ce le metto uguali al massimo ci rimetto quelle uguali alla torta perché è di una faticaccia trovare queste decorazioni giuste i gangliardetti boh non sono bellissimi comunque ci sono un sacco di di come dire decorazioni c'è molte scelte vabbè ci mettiamo queste qua sì direi che è perfetto guarda le incidiamo anche visto che ci siamo scrivi nelle decorazioni chi si sposa Lily e Jasper aggiungi un messaggio qui auguri agli ai novelli sposi così proprio viva la fantasia auguri ai novelli sposi perfetto guarda accogliti guarda che sbirciona che sei chiamala da te chiamala da te forse sei sei già qua vero sì allora abbracciala dai abbracciale e dille guarda ho una sorpresa per te che già più o meno là in fondo si vede vieni tesoro mio guarda cosa ti ho cucinato allora chiacchiera qui così dovreste spostarvi ok lui sta ancora marciando sì benissimo lui sta facendo il bucato perfetto ed eccola qui ti piace tesoro mio guarda ci si siede proprio davanti ma che bella mamma sei stata fantastica adoro adoro vabbè che ve lo dico a fare ovviamente foto ma proprio ovviamente e quindi tesoro questa è la torta come faccio io non lo so comunque parliamo con lei quindi entusiasmati per il matrimonio imminente guarda me la metto pure nell'inventario così abbiamo le decorazioni non posso metterla nell'inventario sì aspetta chissà però se posso regalarla proviamo a fare così intanto questi li vendiamo ok perfetto costano zero non li abbiamo pagati quindi va bene metti nell'inventario e vediamo se a questo punto oddio aspetta posso regalartela vero dimmi di sì dai il regalo regalo amichevole vediamo se posso regalartela dimmi di sì 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 perfetto regaliamole tutto la torta e la decorazione e poi ragazzi possiamo salutare questa famigliola e tornare da Lily e Jasper sì è per te figliola mia dimmi che ti piace speriamo sia anche buona dentro non so neanche com'è però vabbè ci sta e le diamo anche appunto sempre sotto forma di regalo perché appunto non si può fare altro la decorazione auguri ai novelli sposi Lily e Jasper perfetto a questo punto se Nora avesse finito anche di modificare però mi sa che è una merda sempre scusate la schiettezza però mi sa che è venuto veramente male lui ha terminato dove sei si sta tornando a casa fedeltà premiata wow quindi cosa vuol dire fedeltà premiata più si persevera nella stessa carriera più la fedeltà traspare e viene premiata prima di lasciarci ragazzi con questa famiglia appunto vediamo di mettere il podio io direi di metterlo qua accendiamo un attimo questa stanza e vediamo un po' cosa ci hanno dato appunto con il premio alla carriera eccolo si è questo mamma mia è gigante ma ci sta qua direi di si ce lo facciamo stare è un po' incastrato ma si va bene vediamo se ci sono dei colori lo lasciamo così benissimo e la medaglia dovremmo averla nell'inventario esatto eccola qui che bella adoro ma noi possiamo ammirare si perfetto però vedo che è molto stanco e sì direi che a questo punto ci salutiamo con loro e andiamo quindi a casa di Lily e Jasper così vediamo un po' di mettere in frigo la torta sperando duri nel tempo e basta così andiamo avanti un po' con le varie abilità e aspirazioni eccetera eccetera ragazzi prima di procedere ed entrare quindi nella famiglia di Lily e Jasper vi faccio vedere una cosa che è cambiata ovvero qui in questo quartiere allora intanto ho aggiunto i quartieri del safe file che vi ho pubblicato un po' di tempo fa in questa casa ragazzi allora qui abbiamo gli scotti qui la clinica veterinaria qui invece si aggiuntano la famiglia sto parlando di Gloria che vabbè contiene ancora il nome Morosini però sono Gloria e Lucas Lucas fa parte degli scout quando ancora nel mio gameplay c'erano Erika all'interno degli scout con Jasper e c'era anche Lucas praticamente loro due hanno avuto un flirt e sono venuti ad abitare qui io ho lasciato come mie famiglie unità familiari solamente Lily e Jasper e la famiglia di Erika Lorenzo che abbiamo appena visto ma gli altri tra cui anche questa qua Vanessa e Riccardo che abitano da Easy Springs che sono i genitori di Gloria li ho lasciati ad andare come vogliono praticamente vedete gli ho messo le modalità storia e gli ho messo tutte queste cose qua così possono adottare un cane un gatto adottare un bambino partorire eccetera così almeno si fanno la vita loro insomma senza che io la gestisca però adesso direi che è il momento di entrare ed addentrarci nella partita ed eccoci qua ragazzi siamo tornati a casa qua piove invece molto di più vi faccio vedere le novità che sono successe perché appunto abbiamo delle novità intanto dunque avete fame no ah Lily guarda guarda pure il canale ok Jasper ragazzi è andato avanti con il punto a croce mi ha fatto questo che è un quelle frasi mascotte però di qualità scadente poi mi ha fatto allora intanto qui ha appeso quello della mucca che è bellissimo e di fianco sopra ha appeso quello del pudding dello Yorkshire poi qui è un'altra roba che adesso vi faccio vedere ha appeso questa perché appunto con l'arrivo di Gloria qui a Hanford c'è stato un diciamo un non rimpatriata però è venuto a bussare la porta perché aveva un regalo per noi e quindi ci ha dato questo cavallo poi qui nella stanza ragazzi abbiamo delle novità perché appunto con i soldi che avevo sono riuscita a creare una stanza definitiva direi che questa è praticamente fatta devo solamente magari aggiungere qui una poltroncina e un come dire una una pianta e poi qui avremo le foto di matrimonio comunque delle altre foto comunque questi sono i comodini qui hanno messo la foto del castoro quando sono andati a Granite qui abbiamo altre foto di loro eccole qua e basta qui abbiamo appunto quelle foto da scout di Lily con i premi che ha vinto e se non erro questo è tutto ah ho aggiunto porta e qui anche del il pavimento e le decorazioni c'è da pulire allora c'è da fare un po' di ordine allora adesso vi faccio vedere anche le altre cose però anche tu Lily mettiti gli abiti anche questi perfetto allora tu mi devi andare a pulire il capanno di burrita perché è tutto sporco pulisci il capanno mangime ce n'è abbastanza stamattina o meglio l'ho fatta mungere ieri quando non giocavo insieme a voi non so se adesso è da mungere non credo perché non ha le tettine gonfie comunque però dice mungi vabbè mungila dato che ci sei in trappoletto dentro sì sì ma vai pure fuori tu vieni a fare il giardinaggio quindi estirpa tutte le erbacce e anche da qui dovresti farlo vabbè comunque intanto abbiamo il fungo adorabile da fare evolvere e basta nient'altro quindi con cosa è successo anche nel mentre allora qui c'è da pulire il pollaio sì e anche raccogliere le uova ah e mi diceva anche che mela ormai è ad uno stato avanzato e quindi probabilmente tra poco ci lascerà le penne anche tu vieni qua guardate c'è da estirpare e da magari incoraggiare allora qui non si può fare niente ah sì sì ok incoraggio la crescita del prodotto agricolo perfetto mi faccio vedere ragazzi erica no il figlio ah no e tesoro sono mamma quando dovrei trovarmi ma siamo venuti oggi non posso mi è fatto piacere parlare con te eh sì siamo indaffarati dai non te la prendere però cosa è successo genitori mancati vabbè comunque vi faccio vedere qui che praticamente quando avevo raccolto qua le foto delle mie composizioni floreali sono tutte buggate guardate sono tutte buggate e quindi ho iniziato a fargliele rifare perché appunto poi ci sarà da vedere le varie profumazioni eccetera eccetera e quindi sono arrivata qui a mattino d'estate e quindi poi proseguiremo anzi prosegui subito crea una composizione dopo il mattino d'estate viene cosa c'è? le campanule fatti pure le campanule e purtroppo questo è quanto niente burrità è rientrata perché effettivamente erano le 19.30 va a letto e qui ragazzi abbiamo il problema che ha i sogni non realizzati la ha paura del lavoro senza sbocchi purtroppo c'è questo problema qui per Jasper e quindi dobbiamo provare prima di andare al lavoro a andare carico quindi ritrovare la passione speriamo di riuscirci abbiamo trovato un fertilizzante vitalità ma ne abbiamo due sì allora ragazzi a questo punto ne proverei uno di qua e uno di qua ah abbiamo un altro telaio che è stato no è da finire lo stavo facendo fare l'uccellino e vabbè oh la torta ragazzi mi stavo dimenticando di mettere la torta quindi con Lily vediamo di metterci appunto la torta l'ho fatto insomma ho fatto andare avanti Lily anche con l'erboristeria ok la torta è qui posso metterla sì e le decorazioni mi sa che non ho fatto in tempo a prenderle vabbè poi casomai ce le mettiamo quelle pazienza forse è già tutto insieme non lo so intanto c'è da buttare il cibo avariato non dirmi che è la torta no ti prego non dirmi che è la torta sto male se la torta ma l'ho appena fatta ok ha variato fra 24 giorni quindi abbiamo 24 giorni per sposarci me la ecco vedete c'è da guardarsi che rimanga per qualche tempo ok intanto ha raggiunto il livello 3 trova che sia divertente il giardinaggio e quindi ragazzi stavo pensando anche per per Jasper magari di cambiare lavoro e quindi iniziare con il giardinaggio quindi sarebbe la stessa carriera di Lili però lei ha preso come ramo la composizione floreale no 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 aspetta aspetta vabbè questa c'è da farci poi la foto niente rientra che devi sederti e studiare un po' di erboristeria e quindi pensavo questa cosa con lui perché forse quella dei pesci fare il pescatore l'ha un po' stancato anche se qui comunque dobbiamo andare avanti manca poco abbiamo poi l'ultima l'ultima pietra migliare però ci stavo pensando a questa cosa ok estirpa pure l'erbaccia e poi proviamo così anguria e lattuga da questo lato proviamo con il prodotto vitalità così proviamo vediamo vediamo se cambia qualcosa poi tu entri che hai fame entri che hai fame e domani vai al lavoro no domani sei a casa quindi fantastico vieni qua e ti prendi la cena prendi gli avanzi ok gli sta piacendo amo il giardinaggio vedete quindi probabilmente farei una cosa di questo genere ecco non gli piace perché tu sei già non sei più una dilettante allora a questo punto proviamo a far accoppiare una rana proviamo rana foglia no niente anche questa sarà dura ragazzi con le rane però noi ci proviamo allora vieni qua poi che dobbiamo scattare la foto scatta pure la foto il vaso mi piace questo qua bianco va benissimo anche se è sera non succede niente perché utilizziamo il filtro questo ok perfetto a questo punto si chiama campanule possiamo mettercelo in inventario e lili a questo punto tu stai molto bene quasi quasi ti faccio andare avanti si fammene un altro dai dopo il dopo le campanule cosa abbiamo rosa macchiettato vai fallo pure e io posiziono qui la foto che sarà selezionata appunto campanule perfetto mentre queste tre ci devo ancora arrivare quindi magari le sposto più giù e aggiungiamo pure la cornice legno scuro anche tu forse lili dovresti mangiare un po' però vabbè c'è tempo ok allora facciamo così lui lo mandi in bagno ah no ma tu domani non lavori vieni qua e finiscimi il punto a croce mentre lili cerchiamo di continuare con queste con queste composizioni oh guardate qua ottimo è sano mentre questo sano penso sia sano anche questo sì è tutto sano qua boh non ci dice niente però va bene ok vediamo questo uccellino infatti ancora è a metà infatti anche qui non so se c'è una vera collezione dei punto a croce perché tra le collezioni proprio non c'è e quindi non saprei proprio ok abbiamo terminato anche questo ormai mi sa che però la prossima ci servono i fiori ci servono i fiori da da utilizzare vediamo allora innanzitutto diamo un vaso rosa sì decisamente questo si chiama rosa macchiettato come al solito scattiamo la nostra foto mettiamo il filtro guardate come si vede bene e a questo punto ti mando in bagno però stai veramente molto bene che ormai non vorrei che diventasse un po' troppo lunga la la puntata e tra l'altro ragazzi guardate adesso mi fa delle composizioni impeccabili e sono dei capolavori quindi cioè si guadagna bene con questi vendendoli poi al mercatino allora facciamo così vieni qua e ti prendi anche tu un biscottino anzi un pezzo di formaggio vai mangia pure la fetta e a questo punto nominiamo con rosa macchiettato la nostra fotografia vedete io faccio così perché appunto riesco poi a tenermi diciamo è questa sì a tenere una sorta di collezione mia ecco non che esista veramente ok nome rosa macchiettato e le altre vendiamo tutto tanto non ci interessano e ci facciamo altri soldini perfetto ok ok oh l'hai terminato è scadente eh vabbè allora per fare la coppia muro non so se ve l'avevo fatto vedere basta averlo nell'inventario e fai crea una coppia da muro lui è stanco ragazzi lo mando a dormire vai pure ok Jasper ha creato la coppia da muro la mettiamo qui sempre mettiamola di qua dai intanto poi qua ci andrà il camino già penso e poi tanto sarà da spostare sì dai mi piace è carino ok perfetto allora intanto che Jasper va a dormire con Lily ragazzi vediamo se riesco a fare un'altra composizione altrimenti niente ne faccio un'altra tra quelle che possiamo allora dopo eh vedete mi manca il crisantevo però posso fare la bacca invernale vediamo se ho il crisantemo ma l'ho finito eh sì non ne ho più questo è il tulipano e di qua eh no di qua bisogna aspettare che cresca vabbè allora facciamo così facciamo fare quello dopo poi quello io lo farò fare lascio lo spazio vuoto nella parete così so che lì ci va quello quindi facciamo bacca invernale perfetto ragazzi a questo punto direi che possiamo salutarci così altrimenti viene troppo lungo l'episodio quindi vediamo poi prossimamente cosa cosa succede con questi prodotti agricoli abnormi insomma la prossima volta allora sabato c'è è la fiora dei prodotti agricoli abnormi vedete e la gara delle torte magari potremmo partecipare con una torta c'è il festival dell'idilio interessante ah ma non mi ho fatto vedere ho prenotato diciamo organizzato con il il matrimonio quindi la cerimonia nuziale qui il mercoledì perché appunto avevo visto il sole con la nuvola e gli altri giorni comunque qui c'è il primo giorno estivo e qui invece c'è questo che vabbè forse riusciamo a fare poi c'è il nuvolo insomma qui almeno c'è un pochettino di sole e ho iniziato a pianificare l'evento e quindi ho messo tutte le varie cose che abbiamo visto quando abbiamo organizzato il matrimonio con anche qui le varie attività da fare non vi svelo ancora gli abiti però insomma qui possiamo selezionare la torta e poi qui il luogo ancora devo sceglierlo ma scusate ma allora selezioniamo pure la torta intanto che lei fa la composizione no perché insomma poi mi scordo perché non ho idea di come si faccia allora selezioniamo la nostra torta che vabbè ci dobbiamo rimettere ragazzi la le decorazioni della torta abbiamo detto queste sì però non ce le mette su va bene Lily vieni un attimo qua scusami eh vieni vieni qua che dobbiamo selezionare le nuove decorazioni queste no mi sa che non me le mette mmm non so perché non me le metta perché non ce le ho più e ce li ha Erika non vorrei che fossero rimaste nell'inventare di Erika comunque vabbè scegliamo come torta per la cerimonia nuziale ok è sparita dove è messa dove l'avete messa la torta non si sa vabbè comunque almeno l'abbiamo selezionata vieni qua riprendi la composizione e quindi scusate se io ritorno qui ok perfetto è stata selezionata e poi magari vedrò di aggiungerle io e basta bene bene ragazzi sono molto contenta che questo giorno fra poco arrivi detto ciò noi possiamo salutarci e vediamo la prossima volta se avremo già un inizio di prodotti agricoli abnormi detto questo io spero che l'episodio vi sia piaciuto se è così fatemelo sapere con un like giù nei commenti intanto abbiamo raggiunto un livello 8 fantastico e noi così possiamo vederci al prossimo video ciao 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 ciao